Quindi, secondo me, potrebbe essere una buona occasione per andare d'accordo! Charlie, tesoro, non fraintendermi, ma non me ne frega un cazzo! Andiamo! Guarda quanta gente ti vorrebbe in un episodio di Alastor! Oh, porco me! Sono certa che se partecipassi, potresti essere un incentivo per la gente a venire all'hotel! Charlie, non è che non... E va bene, ma sia chiaro che lo faccio solo perché ti voglio bene! Anche io ti voglio bene! Di cosa parlate, signorine? Oh, Alastor! Volevo giusto parlare con te! Potresti fare un episodio di Radio Alastor con mio padre? Mmm, non lo so... Fammi controllare la mia agenda, vediamo... Episodio con Sestia, l'episodio con Rosie... Non serve, Charlie! Si vede che non ne ha alcuna voglia! Oh, ha fatto! Anzi, vi esorto! Sarà divertente! Se ci tieni tanto... Ci tengo il giusto! Bene! Ottimo! Stupendo! Sublime! Ma prendetevi una stanza e fatela finita! Angel! No condizioni e fatela! Ciao! 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 Ciao!